La rivoluzione russa. La rivoluzione russa fu una serie di eventi sociopolitici avvenuti in Russia nel 1917 che portarono al rovesciamento dell'impero russo e alla formazione della Repubblica, socialista federativa sovietica russa, che nel 1922 divenne l'Unione Sovietica. Le cause della rivoluzione. Le cause della rivoluzione russa sono complesse e molteplici. Tra le principali si possono annoverare. La crisi economica. L'impero russo era un paese agrario e arretrato, con una popolazione in gran parte povera e analfabeta. La guerra mondiale aveva aggravato la situazione, causando una grave carestia e un aumento della disoccupazione. La repressione politica. Lo zar Nicola II era un monarca assoluto che governava con un pugno di ferro. La sua politica repressiva aveva contribuito a radicalizzare l'opposizione al regime. L'influenza delle idee socialiste. Le idee socialiste, che proponevano un sistema economico e politico basato sull'uguaglianza e la giustizia sociale, avevano iniziato a diffondersi in Russia a partire dalla seconda metà del XIX secolo. La rivoluzione di febbraio. La rivoluzione di febbraio iniziò il 23 febbraio 1917, 8 marzo secondo il calendario gregoriano, in occasione della giornata internazionale della donna. Le donne di Pietrogrado, la capitale russa, cesero in piazza per protestare contro la guerra e la carestia. La protesta si estese rapidamente a tutti i lavoratori e alle classi popolari, che si unirono alla richiesta di abdicazione dello zar. Il 2 marzo 1917 Nicola II fu costretto ad abdicare. Il potere passò a un governo provvisorio formato da liberali e socialisti moderati. La rivoluzione d'ottobre. Il governo provvisorio non riuscì a soddisfare le richieste dei lavoratori e dei contadini, che chiedevano la fine della guerra, la redistribuzione delle terre e la riforma agraria. Il partito bolscevico, guidato da Lenin, approfittò della situazione per organizzare una rivoluzione. La rivoluzione d'ottobre iniziò il 25 ottobre 1917, 7 novembre secondo il calendario gregoriano. I bolscevichi presero il controllo di Pietrogrado e dei principali centri industriali del paese. Il 26 ottobre 1917 Lenin annunciò la nascita della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa. La guerra civile. Il governo provvisorio, sostenuto dagli alleati, reagì alla rivoluzione d'ottobre attaccando i bolscevichi. La guerra civile russa durò dal 1918 al 1920 e vide contrapporsi i bolscevichi, guidati da Lenin e Stalin, e i controrivoluzionari, sostenuti dagli alleati e da gruppi plitici interni alla Russia. La guerra civile si concluse con la vittoria dei bolscevichi, che consolidarono il loro potere in Russia. Le conseguenze della rivoluzione. La rivoluzione russa ebbe conseguenze profonde sulla storia del mondo. Fu la prima rivoluzione socialista successo, e aprì la strada alla nascita di altri regimi comunisti in tutto il mondo. La rivolone russa ebbe anche un profondo impatto sulla società russa. La nuova repubblica socialista federativa sovietica russa introdusse una serie di riforme radicali, tra cui la collettivizzazione delle terre, la nazionalizzazione delle industrie e l'abolizione della proprietà privata. La rivoluzione russa è ancora oggi un evento controverso. I sostenitori della rivoluzione la considerano un evento positivo, che ha portato alla libertà e all'uguaglianza per il popolo russo. I critici della rivoluzione la considerano un evento negativo, che ha portato alla repressione politica e all'economia pianificata. Grazie.